ciao ciao a tutti bentornati nel mio canale oggi tutorial in collaborazione col sito panda all select se vi siete persi nei giorni scorsi il video unboxing di panda all ve lo linko qui nella id informazione vi mostro in quel video in dettaglio tutti i materiali scelti appunto dal sito e inoltre vi ricordo che il sito ha messo a disposizione per i miei iscritti un codice sconto dalla validità di un anno quindi ve lo lascio qui in sovraimpressione perché è un codice fiscale così ve lo lascio qui e anche in descrizione così potete tranquillamente copiarlo e incollarlo appunto sul sito per poter usufruire dello sconto ovviamente come dicevo prima è uno sconto del 10 per cento valido sul primo ordine appunto sul pandaulla adesso voglio mostrarvi la la fustella che ho scelto appunto dal sito questo è il codice del prodotto vi lascio anche questo il link in descrizione ed è appunto la fustella che andremo a utilizzare oggi per realizzare i bracciali in ecopelle questa fustella è simile a quelle lì bigs della big shot è bella resistente bella robusta del marchio appunto superdant questo è il laterale vedete è bella bella spissa e abbiamo la possibilità di realizzare quattro tipologie di bracciali con questa fustella e io non vedo l'ora di sperimentare perché questa tipologia di fustella può tagliare diversi materiali come dicevo prima pelle ed ecopelle ma anche feltro possiamo tagliare il tessuto la gomma eva la plastica il legno il cartoncino ovviamente di spessore anche fino a tre millimetri e possiamo anche tagliare il metallo con questa con questa fustella qui quindi non vedo l'ora di realizzare anche un bracciale in metallo utilizzando questa fustella al momento andremo a testarla con le copelle le copelle io ho scelto questa è questa tipologia di ecopelle fatta in questo modo questa di solito la utilizzo anche per l'embroderi per ricoprire la parte retro del del monile e come vedete il retro è fatto in tessuto e poi qui è lo strato appunto di ecopelle ce l'ho in diverse colorazioni anche colori un po più pazzi come rainbow glitterati aspettate che ve li mostro vedete tipo rainbow insomma posso davvero sbizzarrirmi e creare diverse tipologie di bracciali uno più bello dell'altro e c'è anche la versione questa questa anche stupenda molto colorato e visto che in questi giorni spopola la sirenetta c'è anche versione in fondo al mar che ricorda appunto aspettate che trovo dalla eccole qua che ricorda appunto la coda della sirena c'è anche in questo colore che è stupendo limite lo faccio anche così e anche questa qui con il celeste il fucsi e il viola anche davvero molto belle poi ovviamente c'erano anche altri fogli di ecopelle in tinta unica come questo qui che è anche stupendo questo colore colore cuoio insomma mettiamoci al lavoro e andiamo a testare questa bellissima fustella rieccomi allora ho scelto di realizzare questo bracciale qui secondo quindi ho tagliato una fresciolina di ecopelle della dimensione giusta poi ho messo anche non so se si vede c'è anche il tappetino da taglio sotto questo qua poi c'è la fustella appoggiata sopra e di nuovo il tappetino e ovviamente il tutto all'interno della big shot vi mostro i baccialetti realizzati allora come vedete ho realizzato questo qui come dicevo prima è il memoria della sirenetta davvero molto carino con questo tessuto glitterato poi ho realizzato questo anche molto molto bello poi questo qui base celeste barra lilla questo giallo verdino poi c'è questo qui giallo con sfumatura rosa e poi questo qui che è una sorta di bordeaux questo è simile ecopelle credo che questo tessuto barra ecopelle che ho utilizzato sia troppo sottile per realizzare dei bracciali abbastanza consistenti perché ricordo che i bracciali quelli che acquistavo appunto a mercatini a fascia in ecopelle sono molto molto più spessi come materiale io credo di fare anche una prova anche con quelli come dicevo prima voglio anche fare una prova con il metallo e provare a fare questi bracciali con una lamina di 3 mm in metallo e poi ovviamente con un supporto di bracciale in legno andare a martellare e e fare appunto la forma che va ad abbracciare il polso perché questi qui sono venuti molto carini adesso non resta che mettere la la chiusura appunto quella lì quella come come si chiama clic clac ecco non mi ricordo come si chiama la chiusura a pressione ecco non mi veniva il nome perdonatemi e sicuramente vengono dei braccialetti carini sono sono molto più sottili rispetto a quelli a quelli che di solito si acquistano quindi sicuramente farò altre prove con altri tessuti un po' più spessi rispetto a questi perché questo davvero è molto molto sottile non so se se rende in videocamera quindi sicuramente farò altri tentativi altre prove e stavo pensando anche a una volta trovato questo tessuto adatto di andarli anche a decorare in che modo al limite si possono questi qui si possono anche sovrapporre visto che sono della stessa lunghezza in questo modo e andare in qualche modo a dispessire il braccialetto possiamo anche sovrapporne tre visto che sono davvero molto sottili in questo modo e provare a realizzare un braccialetto visto che finiscono tutti quanti vedete sono tutti quanti della stessa lunghezza quindi volendo si può anche provare a fare questo tentativo e poi al limite provare ad incollare la parte centrale e poi per quanto riguarda il bordo pensare di fare una decorazione in brick stitch volendo perché no verrebbe una cosa carinissima già tre crea una consistenza si eccomi allora mi sono armata di artiglio che tra l'altro anche questo devo di comprare perché sta terminando e proverò a sovrapporre questi tre per poi realizzare un unico bracciale vediamo un po se va bene allora metto un po di colla centrale mi sa che è proprio terminata la colla ok giusto un filo centrale e poi con questo a disposizione una forcina per capelli lo vado un attimo a ecco spargere in questo modo vediamo se riesco a realizzare un bracciale decente mi dispiace che sia tutto troppo sottile ma dicevo con i materiali giusti sicuramente viene fuori una bella lavorazione ecco non possiamo non posso sbagliare perché sono tutte della stessa dimensione quindi il braccio centrale una leggera pressione la forcina si rende utile ok ok nella parte centrale la consistenza c'è quindi al momento va bene adesso aspettiamo che si asciughi per bene rieccomi ho preso anche la misura dove andrò ad applicare la chiusura a pressione vado a prendere il kit e vado ad applicare la chiusura argentata rieccomi ho applicato anche il bottone automatico a pressione perdonatemi se non vi ho mostrato i passaggi ma la telecamera si è rifiutata di registrare ma in descrizione vi linko questo video qui dove appunto è il tutorial di come si applicano i bottoni a pressione se in tal caso può esservi utile e vi linko ovviamente in descrizione di questo video realizzato un bel po' di mesi fa questo comunque è il bracciale realizzato aspettate che ve lo mostro indossato ce la posso fare con una sola mano eccomi qua ed ecco qui il bracciale indossato io l'ho realizzato molto aderente al polso questa è appunto la chiusura ho lasciato questo spazio qui e preferisco ovviamente i bracciali aderenti e questo è il risultato vi dirò con tre bracciali sovrapposti in questo modo la struttura del bracciale c'è invece con uno di questi mi dispiace ma resta molto molto morbido proprio simile il tessuto anche nel caso delle copelle resta sempre molto molto morbida quindi sicuramente testerò questa fustella con altri materiali con uno spessore adatto sia che sia metallo o pelle o ecopelle niente ragazzi io spero che questo video sia stato di vostro gradimento lasciatemi un like e un commentino io come sempre vi saluto un bacione e alla prossima con nuove creazioni ciao ciao Grazie a tutti.